ben ritrovati amici ma soprattutto amiche dello spallino punto com appuntamento numero 25 con la nostra diretta del mercoledì sempre più in ritardo e sempre più in difficoltà ciao martina buonasera a tutti ciao a tutti e direi anche sempre in meno sempre in meno esatto e adesso metterò un ticker per scrivere leonardo b scuola potrebbe arrivare dai dai arriva arriva io ci credo sappiamo con certezza ok no perché sono da paziente comincia a chiedere dove l'era dove leo vabbè intanto ciao stefano ciao claudia ciao matteo ciao stefano allora dicevamo ciao carlo ciao sole dicevamo ciao mattia saluto tutti indistintamente è una giornata è una giornata che che ci ha portato a correre un po e a iniziare ancora una volta in ritardo di solito iniziamo alle 9 9 05 ed è già la seconda settimana che iniziamo in ritardo ma d'altra parte arriva la bella stagione c'è chi domani parte per le vacanze comunque è lei o domani ho un volo da prendere quindi vabbè tra l'altro non potevo scegliere il periodo peggiore uno perché lunedì c'è una partita discretamente importante quindi da qui a lunedì ci saranno parecchi temi probabilmente di cui parlare e poi perché oggi è stata sganciata una bomba giornalistica ne parleremo ampiamente sperando che leo b scuola si unisca a noi ha detto alle 21 e 14 che gli servivano cinque minuti ne sono passati due e mezzo adesso vediamo ma non sta sentendo alcuna pressione da parte non no no proprio per niente non mi ha mandato neanche un messaggio vediamo bene attenzione 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 ciao leo non senza fatica ma sono collegato spero che moltissimo ottimo audio soprattutto come sempre beh di grazie come dire ok leo e leo in trasferta e quindi in trasferta perché la spaggia in casa per lavoro comunque dicevamo giornata che è iniziata in maniera sonnacchiosa ma poi ha preso quota perché è arrivata non so se è una notizia o un'indiscrezione però devo fare il titoletto scusate che questa diretta è un po' improvvisata e il titoletto è avanti con quelli che ci sono nel senso che stamattina su estense.com il nostro ospite della settimana scorso davide suattin ha firmato un articolo nel quale è contenuto è contenuta una considerazione giuda coppina che dice stiamo già programmando il futuro conventurato da monere tarantino quindi questo dovrebbe essere più che sufficiente per spegnere un po' le voci che volevano un possibile cambiamento dell'area tecnica e un po' anche quella parte di opinione pubblica che diciamo così vedeva di buon occhio l'idea di azzerare un po' tutto ma sì in effetti ricordo mi sembra che siano stato un paio di settimane fa un paio di dirette fa che avevamo discusso di questo tema sì esattamente e ricordo che l'opinione fosse abbastanza però a rifare un po' l'organico però ma da parte di chi da parte dell'opinione pubblica in generale ricordo che fossero più favorevoli a rimescolare le carte che cosa si può dire di questo di questo conferma dai commenti che ho letto un po' oggi all'articolo che abbiamo pubblicato sembrava che comunque il malcontento generale non si fosse del tutto placato voi cosa ne pensate ma io non ho letto nessun commento ma non c'è molto da leggere in realtà è ok quindi in realtà non non mi sono fatto influenzare è una considerazione molto stringata quella che ha fatto tacopina dicendo stiamo già programmando il futuro allora che la spalla stessi programmando il futuro lo sapevamo io sinceramente mi sarei aspettato qualche cambiamento anche nell'area tecnica magari anche se in realtà non fanno lo stesso ruolo comunque magari uno solo dei due ecco non entrambi mi sarei aspettato un cambiamento di questo tipo e invece si vede che comunque tacopina ha valutato positivamente l'operato di entrambi e insomma ha fiducia ecco e allora torna anche di clote aveva piena fiducia perché torna sempre fuori lo stesso argomento c'è ancora un po di tempo davanti quindi infatti infatti diciamo possiamo dire che questa è una dichiarazione di intenti di tacopina ma devo togliere il coso sotto perché lei è arrivato e avevo scritto che non era ben chiaro fino a un minuto prima di collegarmi non era chiaro dice tacco ha detto che rinaglio a crotette dopo questo sono andato sì in effetti volevo completare questo ragionamento è una dichiarazione di intenti di tacopina ma come per i giocatori io direi aspettiamo di vedere i contratti firmati perché sia perché da un lato venturato il contratto c'era anche per il prossimo anno quindi se decidessero di cambiare bisognerebbe comunque considerare di pagare tre stipendi quello di venturato e quello dei suoi due collaboratori per un anno intero non mi sembra ideale per una squadra che dovrà concentrare comunque delle risorse importanti sul mercato la seconda cosa è ovviamente manca ancora un bel po' alla scadenza di questi contratti e tacopina fa in tempo a cambiare idee altre due volte quindi diciamo che mi sembra la classica situazione nella quale dice vabbè al momento siamo questi non c'è motivo di pensare dei cambiamenti però diciamo rimane sempre un margine di dubbio lo do del 10% mettiamola così perché non possiamo davvero sapere quanto poi bene o male finirà questa stagione perché se la SPAL fa tre vittore nelle ultime quattro dice vabbè dai abbiamo chiuso in crescendo clima di fiducia così ma se se vai giù se vai giù scusate no non vai giù dopo parleremo anche di questo però se se chiudi la stagione bel lapsus questo qua bel lapsus terribile se chiudi la stagione facendo un punto in quattro partite e salvandoti comunque ma perché solo perché dietro vanno giù a picco avevo anticipato un po' troppo il concetto è un po' diverso è un po' diverso la sensazione che ti rimane è molto spiacevole insomma penso dipende anche un po' da quello riprendo un paio di commenti tra cui uno di Andrea che è un mio amico lo saluto ciao Andrea e successivamente è arrivata una domanda da parte di Roberto Castellani no scusate Raffaele Cantelli ho sbagliato in cui chiedeva se potrebbe tornare semplici ma domanda un po' particolare quando mai no ma c'è lo 0,0000001% di possibilità che possa tornare semplici che cosa farebbe semplici piuttosto che tornare a Ferrara che tornare a Ferrara allora ci sarebbe bisogno di spendere troppo tempo su questa cosa però semplici uno chi glielo fa fare di tornare a Ferrara quando voglio dire ha dimostrato comunque di poter stare in Serie A aveva saluto il Cagliari l'anno scorso mi sono arrivato in circostanza un po' così o sui generis sì no non oscure semplicemente non andava più d'accordo né col DS né col Presidente sarebbe una mossa senza senso per lui e sarebbe una mossa senza senso anche per la SPAL che comunque vuole continuare a programmare con Venturato quindi insomma non credo vedo che c'è Buzzo che ha già anticipato uno dei prossimi argomenti quindi Buzzo arriveremo anche alla questione Brocchi è incredibile che ci sia la necessità di parlarne sì esatto però è in scaletta abbiamo parlato del ritorno di semplici alla SPAL possiamo benissimo parlare di tutto possiamo parlare di tutto c'è chi comunque come scusate ragazzi se state commentando talmente velocemente che non riesco a leggere e Andrea che dice che Venturato è un po' riclasse e che quindi merita che gli sia data fiducia io ho Venturato e vi dico la verità mi devo fermare ci scrive cambiamo l'hashtag akvoli bayok dovremmo fare nuovo adesivo effettivamente io ho Venturato per quanto abbia mettiamoci in virgolette deluso perché comunque da quando è arrivato ha fatto meno punti in media di Clotet quindi sicuramente non ci si aspettava che ne facesse meno ecco magari che non le vincesse tutte ma sicuramente che non le facesse addirittura meno facesse un po' meglio ecco esatto però comunque io ho Venturato sono curioso di vederlo all'opera dall'inizio con una preparazione magari atletica fatta da lui con dei giocatori in qualche modo scelti da lui anche se quelli che sono arrivati a gennaio comunque lui li ha vallati quindi non è che li hanno presi così al buio però io non sono contento se la Spada dovesse partire con Venturato ecco mi verrebbe da dire che per come sono andate un po' le cose Venturato è stato un po' sventurato in questa sua piccola sessione perdonatemi la nel senso dai perdonatemi la cagata no comunque ci sta sì dai c'è stato un mescolarsi di circostante che non gli rende non gli rende giustizia del tutto basta vedere la faccia dell'ultima conferenza stampa prima della partita volevo arrivare lì Venturato è un po' sconfortato nel senso che già la conferenza stampa di presentazione di Lecce a Spada è stato tutto un programma nel senso che mancava solo che dicesse oh ragazzi siamo questi e quello che viene viene è che non poteva dirlo ma facendo una parafrasi praticamente il concetto era quello nel senso che mi sembrava avesse già dato per per persa questa partita anche se la Spada comunque se l'è giocata decorosamente ha fatto una delle migliori partite paradossalmente che io ricordo in questa stagione negli ultimi due mesi e poi soprattutto nel post partita ha un po' recriminato nel senso dicendo Lecce non è che abbia fatto tutto sto granché però mi viene anche da dire se il tuo portiere è migliore in campo all'unanimità per la stampa probabilmente Lecce qualcosa in più ha creato però scusate più che su questo a me sembra che Venturato non abbia potuto incidere perché questa squadra gli somiglia poco nel senso che è un organico con un assortimento ovviamente dettato da circostanze che conosciamo a menadito insomma i tempi ma anche le richieste il progetto dal punto di vista tattico ma anche caratterialmente mi sembra una squadra che non gli assomiglia perché lui era abituato a condurre squadre di giocatori o emeriti sconosciuti sì o emeriti sconosciuti che volevano dimostrare di essere qualcuno di poterci stare oppure squadre di cagnacci di categoria che per un motivo o per l'altro erano stati fatti fuori da squadre un pochino più importanti è arrivato in una squadra che in alcuni elementi sconta ancora come dire qualche particella di depressione della scorsa stagione e forse butto lì un tema ma so che innescherò un vespaio ma forse in questo organico ci sono 4-5 giocatori che si credono troppo bravi per poter lottare per la salvezza e quindi non riescono a metterci quel qualcosa in più che è nell'idea di pallone di Venturato ho un'altra cosa da dirti arrivati a metà aprile ormai di questa stagione per quanto ancora possiamo usare come scusante il fatto che vengano da dinamiche precedenti riguardanti l'inizio della stagione cioè nel senso secondo me a questo punto il tutto dovrebbe essere più ampiamente superato cioè per quanto i disagi psicologici ci mettano tempo a svanire in questo caso non mi viene più da pensare che possa essere un attenuante io sono d'accordo con la polli e prima di parlare di quei 4 o 5 giocatori che magari si credono forse di meritare qualcosa in più rispetto al posto che calcano al prato che calcano ogni settimana io vi chiedo ma tornando al ragionamento che faceva Orla a Ferrara con un presidente che in questo momento parla di Serie A potrebbero mai veramente fare una squadra fatta da metà o il 60% di semi sconosciuti e l'altra metà di cagnacci di categoria no 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 non dico questo infatti ah no no ma io ho capito quello che ti dici però io dico ma Venturato è un allenatore che ha fatto vedere ottime cose con squadre fatte su quello stampo lì cioè squadre fatte con persone non era richiesto lottare per quegli obiettivi non era richiesto lottare per la promozione squadre che erano una sorpresa perché nessuno si aspettava nulla e quindi qual è il vero progetto tecnico che c'è dietro alla SPAL di Venturato perché l'anno prossimo io mi aspetto che la SPAL dei nomi li prenda nomi anche che facciano come dire inorgoglire la piazza che carichino anche un po' l'ambiente non che vada a prendere cioè no no Leo il tuo discorso fila ma infatti quello che quello che sto dicendo che stavo intendendo è che Venturato arriva a gennaio e si ritrova con un organico che probabilmente non ha l'indole di squadra che morde gli avversari perché dice la salvezza è la cosa più importante ce la dobbiamo fare ma è una squadra che dice ma sì ma noi siamo siamo forti se siamo in questa situazione è perché ha sbagliato il direttore sportivo è perché il mister non capisce cioè non voglio dire che questo sia un problema di tutti i giocatori ma mi viene da dire che diversi giocatori si sentissero o si sentano un po' sprecati in questo contesto del tipo noi siamo troppo bravi per sporcarci le mani con una salvezza noi dobbiamo lottare per i playoff dobbiamo lottare per la Serie A dobbiamo farci vedere in modo che ci compri qualcuno al piano di sopra forse qualcuno di questi dovrebbe scendere dalla pioppa almeno questa è la sensazione che mi sono fatto io ma l'idea anche che mi viene cioè che viene a me è che se tu comunque ti dimostri altezzoso e non tu alla fine non conchiuti niente è anche complicato che qualcuno ti possa notare è un atteggiamento controproducente sia per te che per la squadra e quindi per la calza per cui lavori però tieni conto che la logica delle persone fuori dal calcio non si applica ai calciatori nel senso che il modo in cui i calciatori vedono loro stessi e ragionano per quello che è il loro ambiente è sempre un po' imperscrutabile vogliamo i nomi o orla dice Massimo io posso anche mettermi a fare dei nomi ma poi creerei delle controversie nel senso che credo sia abbastanza chiaro quali sono quei 4-5 giocatori che si credono meglio di quello che sono attualmente di quello che hanno dimostrato attualmente perché poi magari vanno in un altro contesto e fanno benissimo però in questo contesto nel quale c'è da lottare per la salvezza e vincere con una scarabuslona non stanno rendendo secondo le aspettative dice Barbara anche Dickman l'ha messo predivide l'usione non c'è posto Dickman ha fatto delle considerazioni all'interno dell'intervista che ho realizzato per per la nostra newsletter che tra l'altro vi ricordo è uscita oggi ci si può iscrivere basta cercarla su Substack ma in realtà se andate sullo spallino punto com c'è una piccola anteprima insomma potete leggerla Dickman mi è piaciuto perché ha detto qualcuno si aspettava qualcosa di più però ora siamo qua siamo in ballo balliamo è stato molto pratico non è che ci fosse molto da ricamare sopra ma le tue parole secondo me il suo atteggiamento conferma quello che ha detto Dickman mi è sempre sembrato parso un calciatore che entrasse in campo un po' al servizio di quello che c'era da fare mi ha fatto molto ridere questo commento che è passato sotto quale ah la pioppa sì effettivamente no no io non sono di quelli che pensa che questo organico debba essere azzerato dico solo ma non può essere azzerato tra le altre cose no ma perché mi è capitato di leggere servono 15 giocatori nuovi madonna cioè e allora lascia stare che tra prestiti e tutto quanto tanti giocatori andranno via però non credo servano 15 giocatori per fare una squadra che mi pare di capire dalle dalle dichiarazioni di Tacopina però con Tacopina è sempre un problema trovare un'interpretazione abbastanza diciamo precisa una squadra che possa lottare per i playoff che cosa vuol dire che può arrivare sesta come dodicesima dipende molto poi da come si sviluppa la stagione però insomma se vuoi arrivare tra il sesto dodicesimo posto qualcosa in più devi fare forse devi aggiungere 4 o 5 calciatori non neanche dico grandi nomi come diceva Leo prima forse il grande nome il ciocco lo devi fare davanti perché si è capito che qua non si fa gol c'è un giocatore forte davanti lo devi prendere va bene dietro sei messo bene a metà campo forse qualcosina un terzino sinistro degno di questo nome magari poi forse i correttivi di base li hai messi poi possiamo ragionare all'infinito sul portiere vedere un po' sarà curioso vedere cosa vorranno fare però diciamo che con 5 giocatori alzi molto molto il livello probabilmente c'è Federico che fa una considerazione di questo genere lui dice che ci sono troppi pochi giocatori di proprietà i prestiti giocano per mettersi in mostra e non per la squadra non ci mettono quel tanto in più perché l'anno prossimo che la squadra si salve o che retroceda loro tornano all'ovile vai dipende è molto soggettivo ma lì dipende dall'amalgama che si crea anche nella squadra da esatto da come vanno i rapporti non è detto che un giocatore solo perché non è di proprietà allora non debba fare bene guardiamo cosa hanno fatto Sernicola Ranieri esatto che ha fatto un campionato strepitoso poi è chiaro che il giocatore gioca per due motivi principali per se stesso per far crescere il suo valore e ambire a qualcosa di più se è giovane e anche chiaramente per la squadra perché poi la seconda componente dipende anche un po' da come vanno le robe se sei in una squadra depressa che prendi mazzate ogni partita allora magari lì insomma la seconda componente viene un po' meno però mediamente io non sono tanto d'accordo tornando al discorso di prima però abbiamo visto che tu dici non servono quei 4-5 giocatori secondo me se l'obiettivo cioè parliamoci chiaro nessuno di noi qui non abbiamo troppo di ragionamenti sulla prossima stagione no ho capito però nessuno si aspetta la serie A domani però se c'è qualcuno che te la promette io mi aspetto che a fronte di queste cose arrivino anche quei 4-5 giocatori importanti perché altrimenti è difficile avere a creare anche solo i presupposti cioè Colombo quest'anno ha fatto benissimo la prima parte di stagione è stata una scommessa ma era impensabile o sarebbe stato veramente difficile che riuscisse a mantenere quel trend lì per tutta la stagione per tanti motivi secondo me è questione di scelta allora prima di leggere alcuni commenti Francesco ci chiede perché intanto non parte il settore giovanile che è molto forte vabbè qualche volta ne abbiamo parlato poco in realtà effettivamente poco e con delle panoramiche veloci io rinnovo pubblicamente l'invito ad Andrea Catellani la responsabile del settore giovanile perché un mesetto fa tramite l'ufficio stampa avevamo detto che ci sarebbe piaciuto farlo intervenire nella nostra diretta per parlare del settore giovanile e non della primavera che stava andando da Cani e continua ad andare da Cani perché ieri ha preso quattro gol dal Milan e io l'ho vista la partita è veramente stata sconfortante ma per parlare di tutto quello di buono che c'è nel settore giovanile e che è tanto perché comunque le under si stanno facendo tutte valere ci sono dei ragazzi molto importanti insomma c'è un mondo sotto il settore giovanile che concordo con Francesco meriterebbe di essere approfondito però non sempre questo è possibile perché sul settore giovanile mi viene da dire anche in termini di comunicazione si potrebbe fare qualche passettino in avanti perché lo dico senza voler esagerare ci sarebbe molto molto da raccontare ma senz'altro è vero che noi insomma ne abbiamo parlato un pochino magari è anche uno spunto per noi per parlarne un po' di più nelle prossime direzze certo ma beh ma dopo quando la salvezza eventualmente sarà aritmetica non dovremo più parlare della prima squadra perché non ce ne fregherà più no più nulla però diciamo diciamo che appena il campionato ce ne fregherà più meno volevo chiudere il ragionamento di prima perché Andrea mi dice questo tuo pensiero quel riferimento che facevo diciamo sull'atteggiamento sulla personalità sulla autostima da dove lo deduco dal campo dal campo Andrea ma anche ovviamente da da quelli che sono confronti che ho quotidianamente con persone che ruotano attorno alla spalla quindi diciamo è un insieme di elementi che mi fanno dire questo e sono curioso di vedere se ci sarà questa continuità diciamo così dell'assetto tecnico della SPAL se questi giocatori che presumo si credano troppo bravi verranno poi confermati oppure no insomma vediamo c'è un commento di Buzzo che ci tengo particolarmente a leggere in cui mi scagiona da tutte le conte che sembrava io avesse nei confronti di Colombo e mi dice che avrà fatto una gran prima parte poi è arrivata la Polly però Polly stasera lo puoi nominare tanto non puoi fare peggio che così e invece attenzione Buzzo dire certe cose vorrei ricordare che per le CESPAL Leo aveva pronosticato una bella partita di Pinato ah scusate vi segnalo anche che io mi prendo un punto perché avevo detto Alfonso e Alfonso ha fatto la media del 7 quindi tanti saluti a tutti non era difficile immaginare che la SPAL all'inizio della partita ho detto ma perché non ho detto che avrebbe fatto la migliore partita del portiere però non essendo ci stata avendo fatto tutte le indifferite purtroppo mi dispiace ho 4 Polly 3 io sono a 6 mancano 4 partite quindi Polly devi fare hai fatto 6 frutto di di cosa nel girone d'andata perché poi ti sei fermato sì sì dopo ti sei fermato ho vinto tutti i diretti a Crottone a Cosenza e ho campato di rendita per 4 mesi hai avuto lo stesso rendimento di Colombo praticamente tra l'altro ricordo che mi sa che l'unico punto che è stato fatto in questo nostro giochino di Colombo sia stato tuo l'unica volta che non l'ho preso io quello che ti ho pelato prima che tu parlassi esatto non è vero comunque Nico ci chiede Taccopino è già partito partire da Perniore che è già partito da due giorni tornerà presumibilmente il 29 aprile prima di forse non le spalle quindi se volete andare a giocarvi la vittoria della Spalco Crotone questo è il momento perché c'è questa statistica veramente inquietante che ho calcolato io personalmente perché cominciavo a sentire il giorno che Taccopina ti picchierà ti giuro io voglio essere lì avanti però farò dei soldi facendo di caldo perché la media punti con Taccopina in America è 1,21 la media punti con Taccopina presente è 0,85 la matematica non è un'opinione e in molti casi lo è l'abbiamo visto questa settimana con un 0,4 di differenza insomma non è malaccio per una squadra di calcio mi blocca su Instagram spero di no dai allora c'è un ultimo commento che volevo beccare prima di andare avanti Poli mi fece non bene all'inizio però dopo trovò una quadra e poi arrivò se non sbaglio a un punto dei playoff è arrivato a un punto dei playoff quindi insomma Venturato non ha impresso un po' più un cambiamento di passo a questa squadra e credo sia lui il primo a essere molto deluso da questo bene allora c'è questo commento di Mattia Panebianco era io che volevo arrivare comunque puoi leggerlo vai 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 allora Mattia ci dice Tacopina parla di progetto e cambia il mister da salvo parla di valorizzazione dei giovani di vende parla di playoff e come punta prende finotto o la prossima estate compra bene oppure entra nella categoria dei ciocca piazza speriamo che non sappia tradurre è un giudizio un po' severo nel senso che poi tutto va contestualizzato perché tra l'altro vorrei tornare vorrei tornare su una roba Leo quando parlavamo di scelte future ma anche di valutazione del lavoro dei responsabili dell'area tecnica se Tacopina dice andiamo avanti con questi per diciamo inferenza logica dico è soddisfatto di ciò che hanno fatto se è soddisfatto di ciò che hanno fatto ha valutato le cose buone che hanno fatto quali sono le cose buone che secondo te hanno fatto Tacopina e Tarantino e Zauno scusa rido perché dopo la dopo la diretta della settimana scorsa io dicevo che non mi aveva convinto il lavoro che ha fatto il tavolo e il Tarantino tu oggi mi chiedi quali sono le cose buone che ha fatto scusa ma tu sei Tacopina e dici andiamo avanti con questi vuol dire che hai visto delle cose buone allora ti chiedo quali sono le cose che hai visto buone allora se parliamo unicamente di prima squadra diciamo che la cosa migliore che hanno fatto è stato l'abbattimento dei costi che era comunque uno degli obiettivi che avevano loro perché non è che dovevano solo costruire una squadra degna dovevano anche farlo abbattendo i costi che erano insostenibili quindi questo mi sembra di dire che l'hanno centrata è un merito ma ha capito quanto questo parametro non nelle dichiarazioni pubbliche che vengono fatte ma nella realtà ha inciso nella valutazione di Tacopina comunque sto dicendo i commenti che adesso mi fanno ridere tipo hanno dato burgio al Perugia ti piare poco perché guarda che in cambio hanno avuto Melchiorri che ti ha dato quello che c'era però anche anche dare burgio al Perugia per quanto comunque il Perugia non è che abbia garantito una copertura economica anche comunque questa operazione fatta in extremis è comunque servita alla spalla per far quadrare comunque la questione quindi io credo che il merito dei due direttori sportivi sia quello lì cioè di aver salvato come dire di aver messo a posto la parte economica sulla parte tecnica io sono ancora molto 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 perplesso non voglio stare qua a ripetermi però la gestione dei portieri la gestione della punta di non aver di non essere riusciti per motivi per carità l'hanno spiegato quali sono stati quindi non è che siamo sordi però comunque la realtà dice che non sono riusciti a prendere un'alternativa Colombo davanti fortunatamente Belchiorri ha fatto quei gol che sono serviti nelle partite per portare a casa però io tecnicamente come avevo scritto anche a gennaio non più di sei allora ti interrompo che saluto la mia mamma saluto la tua mamma in realtà volevo la mamma della Colle volevo anche mettervi al corrente di un commento che è arrivato da parte di Andrea che chiede ma perché due DS perché non sono due DS perché fanno due ruoli diversi perché bisogna ricordarsi che Tarantino non viene da un percorso da DS tradizionale da negoziatore diciamo così ma curava un aspetto molto delicato alla Roma per il settore giovanile che è la cosa dello scouting quindi mi viene più da dire che sei un esperto di scouting più che un negoziatore un intavolatore di trattative mentre Zamuner ha fatto prima procuratore poi il DS è più sbilanciato su quel lato lì molte squadre hanno le due figure il direttore dell'area tecnica e il direttore sportivo c'era il Milan per esempio c'è Maldini il direttore dell'area tecnica e Federico Massara che è il DS hai fatto un esempio proprio no è perché Tacopina è il super tifoso del Milan molto amico del Milan e quindi ho fatto l'esempio più palese più vicino ma ce ne sono davvero molte se non sbaglio anche il Bologna lavora con lo stesso tipo di impostazione cioè sono tante squadre che hanno queste impostazioni quindi non sono due direttori sportivi sono due figure complementari che devono lavorare insieme per mettere insieme un progetto tecnico per quanto riguarda De Franceschi di cui ci chiedeva Andrea quella storia del Novara è un po' subordinata anche a cosa farà il Novara se il Novara va in Serie C magari potrebbe fare un'offerta De Franceschi questa era la storia venuta fuori un mesetto fa ci chiede poi è ancora sotto contratto e quindi no non è in Svezia qualche giorno fa ha messo un post su Instagram che era vedere una partita in Spagna comunque scusate sono curioso ma secondo voi quindi quali sono i meriti ah beh ok parliamo nel topic di cui stiamo parlando ha scritto uno Stefano ha venduto sec perché se dai via sec 4 milioni con il 20% di rivendita futura secondo me hai fatto una bella operazione è considerato quello che ha fatto vedere sec perché è un prezzo che si basa su quello che potrebbe far vedere ma ne abbiamo parlato in lungo e in largo non siamo del tutto sicuri che abbia i mezzi diciamo così caratteriali per esprimere quello che è promesso ok ma siamo ancora nel campo economico quello di cui parlavo io beh ma il campo economico non può essere separato da quello non dico che sia separato però quello economico abbiamo già detto l'ho detto io ti dico queste due cose cioè secondo me sono i due meriti principali cioè le cessioni perché non c'è solo quella di sec aspetta un attimo perché ci dimentichiamo che a luglio la spalla ha venduto Ellerson allo Spezia per un milione e due se se lo fosse tenuto alla fine di questa stagione Ellerson valeva niente sostanzialmente perché ha giocato pochissimo quando ha giocato non ha concluso un tubo si è fatto male adesso è rientrato e sta giocando con la primavera quindi praticamente una stagione sfigata ti va a deprezzare quello che è un potenziale asset e la spalla in estate anche per necessità ha detto vabbè incassiamo subito un milione e due e poi prendiamo pure Capradossi dentro questo pacchetto beh anche di Francesco allora volendo che è stato piazzato all'Empoli che ha fatto bene poi quello non lo potevi sapere vabbè quello però è stata è stata un po' una quella è stata un'operazione alla murgia nel senso che speriamo che dandolo via si ripigli però volendo no no ma infatti ma se riescono a farlo riscattare dall'Empoli a fine stagione hanno fatto un ottimo lavoro ma poi un secondo aspetto secondo me a gennaio non sono andati male come potrebbe sembrare perché comunque Alfonso alla fine dei conti si sta rivelando un portiere mediamente affidabile non sarà un portiere eccezionale non sarà un portiere che ti fa vincere i campionati ma comunque è un portiere che quello che doveva fare lo sta facendo ha preso Meccariello secondo me è un giocatore validissimo per la categoria lo stesso Vido secondo me è un buon giocatore però lo devi mettere a fianco a una punta strutturata fisicamente perché se tu giochi come gioca la spalla di Venturato con queste palle spesso lunghe conquista della seconda e via così uno come Vido poveretto fa fatica cioè anche Alecce è stato evanescente ma porca miseria guardi i numeri ha ricevuto sei palloni sui piedi cioè o è Messi che con sei palloni tre crea qualcosa oppure un po' dura per un giocatore quindi secondo me hanno dei meriti nel senso hanno costruito una squadra che ha dei difetti hanno fatto gli errori di valutazione però probabilmente Tacopina sta anche pensando se mi guardo attorno di tutti i TDS o direttori della tecnica di cui ho fiducia e che mi sento in mano di dargli che mi sento in mano alla spalla non ci sono quindi secondo me va bene i 4 milioni di sec potrebbero essere dipendere la mantia ho capito Massimo ma no non funziona così anche perché non è che hanno venuto sec e ti hanno versato 4 milioni sono cioè ce n'è una quota subito poi ci sono delle rate poi ci sono dei bonus e via così e poi soprattutto la mantia l'Empoli non te lo voleva dare infatti se l'ha tenuto non l'ha dato a nessuno non è che è arrivata una squadra con più soldi e gliela l'ha dato ce l'ho tenuto perché hanno dato via Mancuso che è al Monza e tra l'altro non gioca neanche troppo spesso a ritolare e Proia alla fine in Vicenza voleva troppi soldi e hanno deciso che non ne valeva la pena sì poi ci sono Buzzo e anche Davide che fanno presente che comunque non è facile fare i DS con i portafogli a disposizione che hanno loro e mi sento di dargli la ragione sì anche di questo però abbiamo parlato cioè io non credo che i DS delle altre squadre al di là di forse un paio ecco dove hanno una disponibilità maggiore gli diano una carta di carrito illimitata e dicono vai compra chi ti pare cioè comunque l'urrolo del DS è comunque quello di riuscire a comprare giocatori col budget che ha a disposizione e centrare l'obiettivo un obiettivo ragionevole non si può dire che quest'anno la SPAL abbia centrato il suo obiettivo trascuriamo poi comunque un elemento perché la SPAL è entrata in questa stagione l'abbiamo visto con diciamo un potenziale buco di 16 milioni una roba così cioè con un bilancio molto appesantito da tutto quello che è successo prima quest'anno a giugno barra luglio diciamo sarai in una posizione un pochino meno scomoda ma comunque non sarai impaccato di soldi a meno che Giorgio non dica eh ho trovato un investitore mi ha dato 20 milioni allora adesso ne spendiamo la metà esatta sul calcio mercato ma al momento non abbiamo la minima idea uno dello stato dei conti della SPAL perché il bilancio 2021 non è ancora noto uscirà perché mi figuro che Polli qual è la scadenza per la prestazione dei bilanci societari del 2021 non lo so non so se ci siano le proroghe covid ancora in atto possono far con comodo probabilmente nel senso che magari sapremo qualcosa di più in estate sui conti e come abbiamo detto un miliardo di volte a noi piace ragionare sui conti nel senso che se il bilancio dice che sei sotto ancora i 10 milioni tutto sto margine per fare delle follie e comprare la mantia o comprare quell'altro non so se c'è e quindi insomma sono valutazioni un po' premature ecco credo credo che Tarantino debbano lavorare molto sulle idee ancora una volta sì e comunque mi viene da dire anche che potrebbe essere la prossima la stagione che ci consentirà di avere un quadro completo sulla coppia di Ritenziale eh sì bene abbiamo altri commenti come dici? abbiamo altri commenti? ma direi che ce ne sono abbastanza però mi viene da dire che potremmo cambiare un po' argomento su un 40 minuti abbiamo argomento allora un argomento vorrei passarci velocemente però questa cosa veramente mi fa ribollire il sangue 5 minuti di margine per parlare di questa cosa ma veramente è ridicolo commenti compresi è assolutamente ridicolo allora nelle ultime 30 ore ho perso il conto di commenti e di gente che diceva ma no ma siamo matti la spalla che vuole prendere Cristian Brocchi come allenatore al posto di Venturato o diciamo corollari di questi po' i commenti abbiamo parlato tante volte del fatto che ormai basta che un sito pubblichi una cosa tre lo riprendono quattro lo modificano è una balla totale diventa diventa una presunta verità non ci si può fare niente è il segno dei tempi delle notizie su internet con i suoi pro e i suoi contro però voglio dire è incredibile che si possa pensare che la SPAL ha messo che voglia congedare Venturato prende un allenatore che è stato esonerato a quattro giornate dalla fine dal Vicenza che rischia molto seriamente andare in Serie C sarebbe una mossa talmente autolesionista talmente stupida che veramente non saprei neanche commentarla quindi come si fa a credere a una roba del genere eppure tanta gente ha detto ma speriamo non sia vero no non è che speriamo non sia vero punto bene perfetto prossimo argomento la domanda è questa roba viene da Musa sì la scritta montanews.com direi io non lo so perché questa notizia arrivi da lì come sia stata è stata pubblicata su quel sito lì viene da lì perché è stata pubblicata su quel sito lì sì ma allora proviamo a ricostruire una spiegazione proviamo a ricostruire il percorso logico di questa storia cioè Monza News scrive la situazione delle panchine per il prossimo anno di Perugia a spalla ma intanto ma perché Monza News è stata pubblicata come se io domani facessi un articolo la situazione sulla panchina del Monza ma che ne so ma non lo so non lo so non ho fonti vabbè comunque mi mettono Venturato potrebbe non essere confermato così come Zamner il che è una frase al condizionale che può essere tanto vera quanto falsa perché non abbiamo né un'indicazione univoca in un caso né l'altro se non che Tacopina oggi ha detto questa cosa e allora noi ripetiamo la lo vorrei fare veramente anche in caso di promozione Stroppa non verrà confermato potremmo uscire con le zone stasera di Rastelli al Monza mi sa che Rastelli lo sta ancora pagando l'Ovisa del Pordenone che lo ha mandato via dopo quattro partite comunque delle due luna questa cosa di Brocchi viene fuori da Monza per due ragioni può venire fuori da Monza per due ragioni uno che Brocchi ha ancora amici a Monza e qualcuno ha detto eh dai speriamo lo chiami la spalla esatto o l'altra teoria ancora più eh come ardita mi è stata non dico suggerita ma mh come dire l'ho discussa con Sandro Sovrani ieri pomeriggio in via Copparo e lui mi dice oh si sa mai che sai Brocchi uomo Milan eh sentimentalismi taccopina rapporti con Berlusconi con Galliani avrei voluto partecipare a quella conversazione guarda io che non sia che attraverso qualche chiacchiera di quel tipo sia venuto fuori un ragionamento io ho detto Sandro non lo so nel calcio può succedere veramente di tutto e non possiamo dare per scontata la spalla dopo aver sentito questa ha deciso di richiudere gli allenamenti rifare gli allenamenti a porte chiuse immagino in realtà non eravamo un allenamento perché eravamo a vedere la primavera quindi comunque vabbè insomma di biaggio brevi di biaggio sta benone perché lo vedo su da zona ogni tanto che commenta le partite a proposito di gente che commenta le partite su da zona aspetta perché oggi sono tre anni dal gol di Sergio Flocari contro la Juve Napoli che è una grande ammiratrice di Sergio non lo sa ma io stamattina ho mandato un messaggio a Sergio dicendo sono già passati tre anni e gli ho detto comunque gli ho detto Sergio se stasera non hai una F da fare una F da fare se ti avanza un quarto d'ora ti puoi collegare con noi dopo ti ti mando lo screen però non ti ha detto di sì no non mi ha risposto la Pauli stava già pensando adesso lo butto dentro sulla diretta e collega Sergio tradimento una cosa tradimento veramente andavo a truccarmi tra l'altro ho appena visto Orla che neanche io ti ho risposto quando hai dato questa comunicazione prima su la stata vabbè comunque saluto Sergio gli voglio bene lo stesso abbiamo l'invito a Sergio magari Sergio stava facendo gli ultimi esami dal direttore sportivo si vede che è sui libri e non ha badato il telefono mi piace pensare nel caso dovessi comunque venire Sergio faccelo sapere un po' prima che non è la mia sistema la Pauli si deve preparare adesso sarei veramente un infame a buttare dentro Sergio in una diretta senza dire niente alla Pauli considerato quanto lei lo ammina prossimo argomento terzino sinistro con una defesa decente saremo già salvi anche senza punta oh allora mi ero ripromesso di non indugiare troppo sul tema della prossima stagione a me fa ridere il nome comunque non escludo che tipo in Polinesia esista qualcuno con questo nome ho capito però dove dire Pela Pui dice che ok hai nomi di tutti non ho capito perché di Pela Pui non ho detto il nome è già grazie che non abbia visto il suo commento in arabo comunque terzino sinistro beh chiaramente se dovessimo indicare un settore nel quale questa squadra è carente prima diremmo l'attacco bolla punta ok va bene ma effettivamente di due terzini sinistri che abbiamo visto in questa stagione ce ne fosse stato uno che è riuscito a fare tre partite di fila da sei in pagella credo non sia mai successo e a questo punto mi sembra improbabile che possa succedere quindi sono curioso di vedere cosa succederà perché mentre a destra per esempio Dickman c'è il posto fisso al mici si è rivelato essere un'alternativa diciamo poco credibile dall'altra parte ci saranno dei ragionamenti da fare perché mi viene strano pensare che dopo una stagione così Tripadelli e Celia possano ricevere ancora la fiducia della società quindi può anche essere che si decida di sacrificarne uno Tripadelli è stato anche un investimento economico il primo investimento economico di Tacopina quindi pensa te esatto quindi bisognerà farci dei ragionamenti Celia anche lui mi sembra che abbia un contratto Orla ricordami che non mi sembra che abbia un contratto credo Celia e Tripadelli entrambi 2024 esatto mi ricordavo tre anni infatti Luca ti dice Orla tu hai il dente avvelenato con Celia lo sanno anche dalla casa del popolo giustificati davvero non 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 so perché Luca sostiene comunque argomenta se puoi ma non ho il dente avvelenato con Celia anzi aspetta 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 ce n'è cosa stai per dire non dirlo qualunque cosa tu stia per dire se te lo tieni sinistri no no stavo dicendo una cosa che mi fa piacere dire perché Sandro Sandro Pasetti che è un amico e saluto se ci sta seguendo se ci seguirà indifferita mi ha fatto un bellissimo regalo perché si è giudicato una maglia di Celia in un'asta benefica e me l'ha regalata quindi io oggi sono proprietario di una maglia della SPA 2021-2022 e quella di Celia pensa che lei non sta crollando quindi un giorno andrò in via Copparo gliela farò firmare e gli dirò Raffa non ce l'ho con te quindi così i miei voti in pagella sono sempre mezzo voti meno delle altre testate Luca ma le pagella dello spallino mica le faccio sempre io anzi io le faccio abbastanza raramente nel senso che ce le ce le dividiamo perché allo spallino vale il principio che tutti devono saper fare un po' tutto quindi una volta le fa Leo una volta le faccio io una volta le fa Alessio Maini una volta le fa Enrico Baroni una volta le fa Riccardo Condarcuri insomma quindi evidentemente tutti quelli che guardano le partite per lo spallino non hanno grande stima eccedia mi sembra un po' improbabile però Luca Baroni dice poteva andarti peggio ma alla grande quindi sì non c'è problema ci sono tanti commenti c'è intanto una domanda di Sara che porrò a te Leo perché Sara Guidotti chiede domanda degli altri credevo perché c'era scritto domanda da ignorante poteva essere anche quella domanda per un ignorante esatto povera Sara che tutto l'anno che ti sono tieni infatti infatti non le facciamo più Sara pensati già perché già stasera sono cotto quindi comunque chiede mi spiegate perché se hai un solo terzino buono difendi a 4 io non ho una risposta nel senso che credo che la filosofia di Venturato sia quella di difendere così a 4 l'ho detto più volte che lui preferisce la difesa a 4 quindi ne ha due a sinistra uno dei due lo deve mettere giù per forte ogni partita infatti li sta cambiando li sta alternando non mi sembra che abbia deciso ancora chi di due con il titolare però ma no il discorso della difesa 4 Sara è una questione poi di preferenza degli allenatori nel senso che gli allenatori prediligono dei sistemi di gioco e sia Clotet si è avventurato sono dei fautori della difesa 4 e non intendono derogare da quel principio tutto lì allora andiamo verso la chiusura parlando di una cosa che mi sta molto a cuore che dovrebbe stare a cuore soprattutto alla Polli perché c'è una partita lunedì abbiamo parlato di tutto meno della partita e quindi è il caso di farlo allora il titoletto che sto scrivendo adesso è la matematica è un'opinione perché anche qui non ho capito perché riguarda in particolare perché sei laureati in economia e quindi cosa vuol dire ma se dovresti essere quella che ha più dimestichezza con i numeri tra tutti e tre c'è un ingegnere ma lei è un ingegnere si intende di potrelle di tralicchi non di numeri non ho mai detto di essere la campionessa comunque intanto lui lui mette tutto dentro un software poi il software ci pensa lui insomma è un po' come per lo scouting allora di questo parleremo un'altra volta no esatto vi prego allora no perché a me dispiace mettere il dito nella piega però c'è chi ha scritto se la SPAL batte il crotone la salvezza è matematica cioè le testuali parole no nel senso che ne ho fatto i conti per quanto io fossi davvero scarso in matematica non è così è vero che tre punti vai a 38 quelli sotto intanto vediamo tre punti al 99% 99% no ma 95% però non hai la matematica non hai la matematica non hai la matematica quindi può succedere che perdi tre partite cosa ne vince tre e vai a fare i play out ma ovviamente il commento di Pela Pui che ha scritto Pela Pui Ferrarese Pela Polli o Pela Polli ragazzi la cosa sta prendendo una piega brutta grazie Pela Pui dopo la faccio comunque autografare ascoltate allora 99% dice lei io dico 95 ma vabbè non è importanza sono dei percentuali però intanto dipende da cosa succede domani sera perché domani sera c'è Cosenza Benevento vuoi mai che Cosenza faccia il miracolo batta Benevento e ti rosicchia tre punti quindi aspettiamo aspettiamo domani sera prima di fare qualunque valutazione poi che il Crotone vada abbattuto mi sembra che siamo tutti d'accordo perché poi il calendario non è che riservi partite facilissime quindi schiantare il Crotone mandarlo in Serie C perché con una sconfitta in Serie C la barra è chiusa per il Crotone e fa il doppio capitombolo cosa che non succedeva mi pare dai tempi del Mantua i primi anni 70 una roba del genere un record pazzesco è una cosa incredibile cioè se noi pensiamo alle sconfitte di cui parlava Mattioli della retrocessione in Serie A dalla Serie A scusate secondo me è una doppia retrocessione a livello al di là il morale che va bene ma fa la fatta negli anni 60 eh sì però non c'era nessuno hai visto quanto ci ha messo o negli anni 70 no negli anni 60 in ogni caso comunque deve essere economicamente anzi non secondo me economicamente è una cosa devastante quindi veramente sì a dire poco veramente capito lo stato d'animo dei tifosi del Crotone perché insomma questo è qualcosa di importante già il Crotone arriverà qui ovviamente all'ultimissima spiaggia anche Cosenza l'ultima spiaggia infatti si è visto quello è successo però insomma c'è la speranza davvero che questa partita venga affrontata con lo spirito giusto anche perché e qui mi aggancio con il discorso dell'aggiornamento del campo mi è perso di capire che la spalla recupererà praticamente tutti perché la scorsa settimana c'erano diversi assenti per influenza c'era Antiam Meccariello Melchiorri è rimasto fuori anche Dorazio Caparodossi aveva male un ginocchio insomma dovrebbero essere tutti recuperabili il Crotone è due squalificati tra l'altro esatto Golemic e un altro che adesso non mi ricordo e la spalla mora squalificato perché ha preso il suo bel giallone a Lecce mancherà probabilmente anzi certamente solo uno la spalla sapete chi è? non è difficile? brava perché non sta bene ha una caviglia messa male e purtroppo non riesce non riesce a stare a stare meglio quindi numero 5 esposito in mezzo al campo a meno che e avendo l'altro non decidi di farli giocare lì da nel lato difficile credo che insomma sì non mi sembra il caso di seppellirlo ulteriormente insomma dal punto di vista delle motivazioni motivazionale sì esatto va bene ragazzi siamo siamo alla fine volete aggiungere qualcosa non credo perché lei non vedo l'ora di andare a dormire io vorrei farmi una doccia e darà letto che sono a ratto quindi per me ma se Miliano Bianchi ci segnala che il Bologna ha fatto ABC nei primi anni 80 andrò a vedere non lo sapevo andrò a dare un'occhiata è esposto secondo me in una posizione giusta ma Andrea ha sempre giocato lì è l'unica che possa realmente rendere perché è vero che ha giocato mezzala con Clotet ma se mi ricordo bene parlavamo praticamente in settimana del fatto che la coesistenza con Viviani non fosse così produttiva quindi insomma presumo che anche lui prediliga giocare lì quindi insomma che faccia vedere qualcosa in più se riesci bene ragazzi non posso che ringraziarvi ringraziate tutti quelli che hanno seguito in diretta quelli che ci seguiranno in differita o su Facebook su Youtube dove vogliono vi ricordo la newsletter dello Spallino andate sullospallino.com c'è un articolo che si chiama Dickman ha parlato nella newsletter dello Spallino e da lì vi iscrivete e niente ci vediamo mercoledì prossimo e dopo Crotone Spall sì dopo Crotone Spall dopo Pasqua ah dobbiamo fare i pronosti io dico mancoso se sbagliamo di cuore togliamo un punto va bene giusto vabbè sì ma se dobbiamo contare tutti gli errori vai Leo vai Leo precedenza vai tu vai tu ci devo ancora pensare non ci ho pensato sto pensando intanto ci ringrazio ci dà la buonanotte e ci fai complimenti per la newsletter è vero grazie Andrea Davide ci dice potremmo parlare del Monza ma abbiamo parlato un po' prima del Monza comunque abbiamo detto che Rastelli sarà il prossimo ordenatore vediamo quanti riprenderanno questa fake news che abbiamo deciso di inventare io mi rigioco opinato mi rigioco opinato ma perché? perché io mi gioco opinato vabbè se vuoi posso mettere come riserva Colombo adesso vediamo dai io non posso non posso giocarmi Dickman perché se no poi si fa male e allora la combo newsletter più giocati te Colombo vediamo se si risveglia dai facciamo ma tanto non giocherà quindi va bene mi gioco Colombo ma tanto non giocherà me lo sento me lo sento in questi casi succede sempre così va bene anche per stavolta grazie a tutti buona Pasqua in anticipo a tutta la nostra community e niente dai ci vediamo mercoledì con il nostro appuntamento numero 26 buonanotte ciao buonanotte ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti